chi è che ha scorreggiato qua oh no porco diaz ma no ricky ce l'ammazza ricky l'obiettivo di questa sera è portare a casa un triceratopo allora prima bisogna localizzarlo no 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 cazzo dici quello ci smonta la base quello ma poi è buio stiamo tamando anche sto piccoletto qua se gli facciamo mangiare un po di brutta storia si bruttissima storia ricky dove è andato il triceratopo ah è lì ma tu hai già le frecce no vale a prendere dai dai però per aver iniziato oggi abbiamo già anche il frigorifero la fornace abbiamo il banco di lavoro dai non siamo proprio messi non siamo partiti male non siamo partiti male vediamo un attimo armi a distanza sì fibra qua vai allora frecce ce le ho cibo ce l'ho via sberle in faccia ci siamo ricky aspetta non mi portare l'altro banco a casa non mi portare l'altro banco a casa non mi portare l'altro banco a casa oh tra un po' adesso iniziamo a dar da mangiare a questo ok ricky non bisogna prenderlo sulla testa già io questa cosa già non me la ricordavo guarda che bevo un mangiatino vado a tiragli una frezza ci sei? ce le hai già le frecce? penso che le ho vinto io ho un po' di presa dov'è cazzo è andato? dov'è cazzo è andato? segno 29 era lì? lì sei tu? sì sì preso oddio preso ma non farti prendere dove cazzo vai? dove cazzo vai? lontano ottimo ottimo cos'è? no 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 ottimo ah piglia le frecce ricky finchia senti come se la ronfa se la ronfa se questo è prima che gli va giù il cibo certo che potrebbe arrivare questo qui del villaggio a fianco con uno stormo di viverne di viverne oh io stai andato tu? un po' di narcotica eh un po' di narcotico eh e ci dice ragazzi ne volete cinque o sei? e noi sìiii bello il binde Magna tesoro, magna! Dai, dai che ci arrivi a cento, dai che ci arrivi a cento, forza, forza, forza! Sì, mi pare di sì, primina! Pure Jessica! Steve, dici che si può già dare da mangiare? Vediamo un attimo Chi è che ha scorreggiato qua? No, porco diaz, ma... No, Ricky, ce l'ammazza, Ricky! Ricky, vieni qua, vieni qua a portarlo via, vieni qua a portarlo via! Ecco, stai qua e lutta un po', io vado, mi abbutto un po' dentro a vedere se ne trovo uno, va... Qua... C'è qualche cosa, eh, c'è questo qua che è quello simile, ma... No, no, sì... Livello 95 Vabbè tu stenti di finire due Lo porto lì? Ti stai seguendo? Adesso sì Vai vai vai, portalo, portalo Ok Eccolo Porca puttana sta caricando Dio 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 Oh no perché non c'è Oh il resto è stifo di ovino Oh merda Aia Aia Minchia no son morto Eh vabbè non si... No 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 Ma forse sta scappando Sta scappando? Sì Occhio non beccare l'altro Ok E' giù E' giù E' giù Bello di papà Non si può mettere Allora Bacche Vado eh No 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 E' giù Behè 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 Per Tusen Per 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 Ah Non gli andava su. Forse, forse. Dai, dai. Dai. Facciamoci sto giro. Eh, gli aumenterei la velocità. Oh, yes! Oh, oh. Oh, God. Oh, my God. 184 di Narcobacche. Minchia, è una bomba, eh. Non si stanca neanche.